Un premio dedicato alle eccellenze del territorio a chi con il suo impegno quotidiano porta in alto in positivo il buon nome della città di Biancavilla a livello nazionale ed internazionale, bel momento ieri nei locali di Villa delle Favare per la terza edizione del premio Skanderberg istituito dalla presidenza del consiglio comunale e organizzato dall'amministrazione comunale con un particolare impegno da parte del vice sindaco Martina Salva a presentare la serata che ha visto anche momenti di musica e di recitazione ancora una volta Ruggero Sardo, presenti ieri anche il deputato regionale Giuseppe Zitelli e il deputato nazionale Francesco Ciancitto. Dopo i saluti di rito da parte dell'amministrazione comunale si è subito passati alla premiazione di coloro che quest'anno hanno meritato il riconoscimento pubblico deciso da un' apposita commissione composta dai precedenti vincitori del premio dopo aver esaminato le varie proposte fatte per venire da associazioni, testate giornalistiche, scuole, palestre, orchestra e bande a salire sul palco e per la prima premiazione è stata la professoressa di educazione artistica in pensione Domenica Scarfalloto Alessandra che nel corso della sua vita a partire dal 1965 grazie alle sue pitture vere e proprie opere d'arte ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti in Italia e all'estero. Biancavilla è dove io sono nata e ho portato anche all'estero dicendo che sono nata a Biancavilla perché mi sta nel cuore e non sono andata mai via da Biancavilla. Pensate che ho ricevuto inviti Milano, Roma, anche Parigi. Roma volevano farmi all'accademia, volevano, ma dovevo lasciare Biancavilla. La mia famiglia no. Ho rinunciato a grandi ingariche per non lasciare Biancavilla e la mia famiglia. Dalla pittura alla pratica sportiva è stato placido Marco Gioco, campione del mondo, destro e sinistro di braccio di ferro, Master 70 ricevere poi il premio Skanderberg sul proposta fatta per venire da Videostar, gioco e reduce del campionato mondiale che si è svolto di recente in Kazakistan. È stato un piacere per me essere stato scelto. Continuo avanti con il mio programma, con le mie gare. L'anno prossimo andrò in Africa a fare il mondiale, quindi mi devo preparare al meglio, cominciando già subito ad allenarmi, a fare la giusta alimentazione e diciamo una vita abbastanza sana, perché sono tanti i fattori da mettere assieme per arrivare diciamo al massimo. Non basta soltanto allenarsi, ma basta anche fare una vita abbastanza sana, alimentazione corretta, avere anche un certo equilibrio mentale. Questo è quello che ho capito in tantissimi anni di questo sport che faccio. Quindi dietro la gioia di vincere c'è tanto sacrificio alle spalle, ma parliamo di come ti è nata questa passione verso questo sport che voglio dire è abbastanza insolita. Questa passione è nata da piccolino, grazie a mio nonno diciamo, che da piccolo mi faceva, mi metteva sempre diciamo a fare dimostrazione di forza con i suoi amici, così sono cresciuto sempre con questa idea di diventare più forte di tutti da bambino. Io ho puntato sul braccio di ferro, infatti già da piccolo battevo i miei zii, ero diciamo abbastanza... Poi nel 2010 ho fatto la mia prima gara, sono partito, poi da lì è iniziata tutta la storia, ho iniziato a vincere i campionati italiani, internazionali, sono arrivato anche a vincere i mondiali, quindi per me è stato... ho viaggiato il mondo diciamo in tre di cento, non mi sono mai fermato. Infatti la cosa principale, la cosa più importante è la costanza, se c'è la costanza si ottiene tutto, costanza e passione. Adesso è premiata anche la cultura con il professore Alfio Lanaia, studioso della lingua dialettale e autore di tanti libri. Non me l'aspettavo, ecco, e quindi è stata una sorpresa quando mi ha chiamato il vice sindaco, no? Io sono felicissimo perché a Biancavilla, io non ci abito diciamo da più di trent'anni, ma prima ci venivo sempre quando c'erano i miei genitori, due volte alla settimana e venivo sempre a Biancavilla. Ma mi sono occupato sempre di Biancavilla, diciamo nei miei studi, a partire dalla tesi di laurea fino all'ultimo diciamo all'ultimo libro che ho pubblicato, alla rubrica che diciamo settimanalmente tengo su Biancavilla oggi. Ecco, questa è, diciamo, la mia patria. Ricordiamo lei un appassionato soprattutto del dialetto. Io sono, diciamo, uno studioso, ecco, del dialetto, un dialettologo. Lo faccio, diciamo, per, tra virgolette, per professione, nel senso che ho lavorato al vocabolario siciliano, di quello di Piccì, fondato da professore Piccì, poi diretto da Tropea, da Trovato. Io ho collaborato agli ultimi due volumi perché è un progetto che risale al 1950, quindi è stato l'ultimo volume, è stato pubblicato nel 2002, quindi 50 anni di, diciamo, di lavori e io, diciamo, sono stato negli ultimi due volumi redattore. Ovviamente, per esempio, per chi legge l'ultimo volume, quando trova CT9, che si dica Biancavilla, nelle sigle che ci sono nel vocabolario, CT9 è Biancavilla e quindi sono io che ho messo... Se dovessimo, per esempio, racchiudere in una frase l'emozione o la serata di questa sera, però in dialetto, come si può fare? Troppo bello. Ci piace io? Troppo assai. Ancora sport, è toccato poi a Giuseppe Maglia, bodybuilder, più volte campione del mondo nelle varie categorie. Ad avanzare la sua candidatura è stato anche in questo caso videostar. Qual è la tua emozione? Tantissima, tantissima. Grazie al comune di Biancavilla, al sindaco Bonanno, di avermi premiato questo primo ambito, Scandberg, che aspettavamo da parecchi anni. Grazie a tutti, fate sempre palestra e allenatevi. Lei è un bodybuilder, come nasce questa passione se ancora lo esercita? Sì, sì, o meno è una scelta di vita la mia, sia a livelli di allenamento, sia a livelli di disciplina, cioè alimentazione, tutto quello che riguarda lo star bene fisicamente. La cosa che mi soddisfa di questa cosa è stare bene con me stesso, stare bene, mente sana, corpo sana. Ad essere premiato anche Pippo Ventura, poeta, scrittore, attore teatrale, cinematografico e conduttore televisivo. Ha recitato fra gli altri anche nei film Lo voglio maschio di Ugo Seitta con Tuccio Musumeci e Caro Michiere di Mario Monicelli accanto l'attrice Maria Angela Melato e nello sceneggiato Rai Il delitto notarbartolo, personaggio molto conosciuto in città per il suo impegno nella realizzazione di svariati eventi a partire dagli anni 60, collaboratore storico di Videostar fra gli anni 80 e 90. Lo scorso 11 ottobre ha festeggiato 90 anni di età e per motivi di salute ieri non è stato presente alla cerimonia e anche in questo caso a proporre la sua candidatura per ricevere il premio Scandeberg è stata la nostra emittente. A ritirare il premio per lui è stata la figlia Daniela visibilmente emozionata. Qual è il messaggio che porterà papà? Lì racconterò la serata, la bella atmosfera che c'era, sarà sicuramente felice di ricevere il premio e di sapere quanto affetto gli avete dimostrato, sarà veramente fiero, è sempre stato onorato, è fiero di essere nato a Biancavilla, ha cresciuto qui, l'ha sempre portato nel cuore e penso che non la dimenticherà mai, non vede l'ora di ritornare, tra virgolette. Una persona che ha dato tanto alla comunità, parliamo sin dagli anni 60, era presidente della Proloco, organizzava tante manifestazioni che ancora oggi tanti li ricordano come per esempio Hacer News Day e tante altre e poi ha fatto anche televisione con Videostar per tanti anni, anzi lo dobbiamo ringraziare perché è stato un pilastro per i primi anni della nascita di Videostar e poi è stato anche attore, ha recitato con attori importanti come Maria Angelo Melato e tanti altri. Sì, ha avuto una lunga carriera teatrale, è sempre stata una sua passione, il teatro, la recitazione e tutto ciò che era questo mondo. Si è sempre trovato a suo agio su un palcoscenico, con un microfono davanti, davanti a una telecamera, è sempre stato contento e penso che un po' gli manchi questo mondo, lo conserva nei suoi ricordi e nel suo cuore. Ci permettiamo di chiederle di salutarlo anche da parte nostra perché abbiamo un ottimo ricordo e dobbiamo ancora una volta ringraziarlo per quello che ha fatto. Grazie, grazie a voi, li porterò i vostri risultati, grazie, lui ricambierà sicuramente. La cerimonia di premiazione è proseguita con il riconoscimento dell'orchestra della Scuola Media Luigi Sturzo, diretta dalla preside Concettina Rita Drago, orchestra che si è esibita in vari comuni d'Italia ottenendo tanti riconoscimenti, a ritirare il premio insieme alla dirigente anche i professori Edoardo Priscimone e Marcello Mammoliti. È il premio più bello che abbia avuto per quanto riguarda la carriera scolastica e in un primo momento non potevo immaginare all'inizio dell'insegnamento di poter raggiungere questi obiettivi e questi obiettivi sono stati raggiunti grazie alla collaborazione dei grandi professori uno dei quali è qui accanto e di grandi presidi perché se non c'è la squadra non solo dal punto di vista tecnico musicale ma anche organizzativo di aiuto sostegno di tutti i tipi sostegno economico sostegno di incoraggiamento organizzazioni interne a livello scolastico perché qualche problema lo creiamo a livello organizzativo e dunque questa squadra questa grande squadra merita totalmente diciamo tutta la scuola questo premio ed era me l'aspettavo. Quest'anno sono stati dati anche tre premi alla memoria e sono andati a Ciccino Sineri attore teatrale cinematografico nato a Biancavilla il 24 giugno 1912 e morto a Catania il 26 dicembre 2005 e a Salvatore Margaglio nato a Biancavilla il 26 aprile 1933 deceduto a Chicago il 26 gennaio 2003 Margaglio e l'amico Antonio Furneri negli anni 60 formarono il duo Biancavilla nome scelto dal famoso conduttore televisivo Corrado durante un concorso canoro che si è svolto in Sicilia e presentato dallo stesso. Le biografie di Ciccino Sineri e di Salvatore Margaglio sono state al centro di un ampio approfondimento giornalistico della nostra testata nei mesi scorsi e quindi presi in considerazione dall'amministrazione comunale per il riconoscimento pubblico. Il terzo premio è andato alla memoria di Alfio Cantarella batterista storico dell'equipo 84. Cantarella originario di Biancavilla è nato ad Adrano il 19 luglio 1941 e morto a Villa Franca di Verona il 30 marzo 2023. Alfio Cantarella ha vissuto la sua infanzia fra Biancavilla e Adrano per poi da grande essere fra i fondatori della storica band italiana divenuta poi famosa nel mondo fra gli anni 60 e 70. Negli anni passati sempre videostar aveva avanzato all'amministrazione comunale la proposta di premiazione ma per via della pandemia covid e per problemi di salute dello stesso artista non si è potuto organizzare per tempo. A conclusione della serata anche un momento culturale con l'incontro con l'autore. Ruggero Sardo ha colloquiato con Mauro Di Domenico chitarrista e compositore napoletano che ha raccontato la sua amicizia con il maestro premio Oscar Ennio Morricone e per l'occasione ha presentato anche il suo libro Quando incontri una leggenda. Insomma una terza edizione quella del premio Scandeberg che ha saputo regalare ancora una volta tante emozioni soddisfatta l'amministrazione comunale. Ormai è diventata una tradizione, una serata interessante fatta di eventi, cultura, spettacolo ma soprattutto un riconoscimento ai nostri concittadini biancavillesi che hanno portato in alto il nome di Biancavilla ottenendo appunto i meriti nazionali e internazionali. Per noi è un onore e speriamo di averne ancora per i prossimi anni. Anche quest'anno con la terza edizione abbiamo voluto creare un momento culturale ricco di tanti piccoli momenti non solo appunto quello del premio che verrà consegnato a delle eccellenze di Biancavilla che hanno ricevuto premi a livello nazionale e internazionale ma abbiamo anche dato una vetrina ad altri biancavillesi che ogni giorno studiano nel campo del canto, dell'arte, dello spettacolo e quindi creare questa piccola vetrina per noi è anche importante. È un modo per diciamo dire che non ci dimentichiamo di loro e che l'amministrazione è accanto a loro e li sostiene. Quest'anno ovviamente abbiamo avuto anche un contributo da parte della regione e ringrazio per questo l'assessore Elvira Amata ma ringrazio soprattutto gli sponsor che hanno deciso di contribuire a questa importante manifestazione perché anche loro ci hanno creduto. Ma ringrazio in particolare il sindaco che ogni anno mi dà l'opportunità di portare avanti questa edizione. Un momento importante è arrivato alla terza edizione Biancavilla cresce. Biancavilla cresce insieme ai suoi protagonisti che sono le eccellenze del nostro territorio, uomini e donne che hanno portato il nome di Biancavilla fuori dai confini territoriali anche internazionali. A loro va il merito di tutto ciò e un grazie da parte della città di Biancavilla e che siano di esempio alle nuove generazioni per formare nuove eccellenze.